Hanno continuato i forni a lavorare 24 ore su 24 per bruciare i cadaveri e queste sono le immagini ugualmente sconvolgenti che arrivano dall'India dove i senza tetto ammalati si mettono in autocuarentena sugli alberi, non hanno assolutamente altri posti dove stare, non hanno assolutamente altri posti dove vivere. Questa è l'India e a te la linea.